Anche se con un pizzichino di ritardo ci sono dei programmi che ancora devono iniziare la loro stagione e parliamo del programma ideato da Davide Parenti che torna in tv, quindi parliamo delle Iene. Eh sì, ogni settimana ci sarà in studio una guest star appartenente al panorama sportivo o musicale o artistico o cinematografico con i loro monologhi soliti. Non mancheranno ovviamente servizi di cronaca e attualità, dei vari scherzi, inchieste e cose varie che hanno sempre mostrato nel loro programma e dopo il grande successo ottenuto proprio nella scorsa edizione, la conduzione del programma è stata riconfermata con Teoma Mucari e Belen Rodriguez accompagnati poi dai comici Max Angioini ed Eleazzaro Rossi. Oh, sono stati confermati anche gli invitati, eh, con qualche nuovo arrivo come Bianca Vitali che arriva alle Iene, ma chi è Bianca Vitali? È un'attrice e modella, è figlia di un noto giornalista ed è mamma di due splendidi bimbi e moglie di uno degli attori più bravi. Bellissimi e amati del cinema, teatro e tv italiana. Vabbè, poi mi saprete dire voi. Comunque, si parla di Stefano Accorsi. Bianca, la moglie di Stefano Accorsi, ha debuttato nel cast del programma in onda su Canal 5 e ovviamente la notizia non è passata molto inosservata. Bianca Vitali e Stefano Accorsi si sono conosciuti sul set della celebre serie del 1992 che ha visto protagonista proprio l'attore e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Ha un carattere molto riservato e timido, ma da quest'anno è arrivata in tv grazie alle Iene, quindi ci sarà molto occasione per potersi lasciare, piano piano andare. Bianca Vitali, la nuova inviata delle Iene, è nata nel 1991. È figlia di Aldo Vitali, che è una delle più celebri e migliori firme del giornalismo italiano di tv e spettacolo e il direttore dello storico settimanale tv Sorrisi e Canzoni. Poi è anche tifosa dell'Inter e possiede due cani. Sì, due Jack Russell che si chiamano Nina e Zoe e un Golden Retriever che si chiama Bono. Oh, è Bono? Che io vuoi fare? Questo è tutto per quanto riguarda questa presentazione del personaggio che impareremo a conoscere e magari anche apprezzare. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima notizia utile, sempre su Pausa Caffè Live. Grazie a tutti.